Insegnare e confrontarsi con i giovani per conoscere e sviluppare le competenze per essere protagonisti del mondo di domani. Il comitato Sinergie in Rete è stato promotore all'interno della sala Tommaso Mario Fusco dell'auditorium Sant'Alfonso di Pagani di un incontro di orientamento rivolto ai ragazzi del liceo Mangino con l'obiettivo di approfondire il mondo delle competenze trasversali, risorse fondamentali nel mondo del lavoro e non solo, come spiega Vincenzo Calce. Qual è lo scopo di questo progetto? È proprio il giovane al centro, il giovane inteso come risorsa per il futuro. Con Sinergie in Rete si propone in questa fase, in una fase di start up, per le aziende che hanno la volontà e soprattutto che intendono formare i giovani per orientarli verso il lavoro. Questo può avvenire solamente se al giovane si riesce a trasmettere quelle giuste competenze, le cosiddette competenze trasversali che oggi tanto se ne parla, però poco si fa per fare in modo che questi giovani possano acquisire queste competenze. Noi partiamo da questo progetto con il supporto delle università, con degli enti di ricerca e abbiamo accolto questo invito della preside che è Pepe, che ci tiene moltissimo a portare avanti questi percorsi di competenze trasversali, ma soprattutto orientamento verso il mondo del lavoro. Quando si parla di competenze, molto spesso si parla di competenze acquisite, ma non si riesce mai a dare un valore a questa competenza. La competenza può essere anche misurata. L'obiettivo di questo progetto è mappare, tracciare e soprattutto misurare le competenze. E ciò può avvenire, perché per molti la competenza è qualcosa che non si riesce a dare un valore. Ha il valore. Ha un valore per il futuro, ha un valore per l'inserimento lavorativo, perché semplifica e facilita e soprattutto avrà un valore anche l'azienda che assumerà il dipendente. Quindi sarà una formazione mirata sulle skill, quindi potenziando quelle che già hanno e magari facendo sviluppare, facendo crescere e valorizzando poi quelle acquisite. Le nuove generazioni hanno bisogno di prepararsi alle sfide del presente e del futuro che saranno destinati a vivere. Creare momenti di orientamento diventa un'opportunità per i giovani per formare una propria attenzione ed identità all'interno della società. Temi molto vicini alla dirigenza scolastica di liceo Mangino, guidata da Ezilda Pepe. Siamo qui oggi per una circostanza che ha la sua eccezionalità. È compito di tutti noi, non solo della scuola, fare in modo che questa che sembri un'eccezionalità diventi normalità. Dal momento che esistono pure delle normative di settore specifico e recentissime per le quali, in base alle quali, lo dico sempre molto in sintesi, le terze, le quarte e le quinte delle superiori devono svolgere attività obbligatorie di orientamento grazie a delle figure specifiche che sono state individuate e si sono formate in ogni scuola della Repubblica, quindi ogni scuola della Repubblica ha un orientatore e un numero di tutor. Infatti i ragazzi che sono qui oggi abbiamo voluto che ci fossero tutti i nostri 184 studenti di quinta con i loro tutor che hanno conosciuto oggi, perché è una cosa freschissima, diciamo che noi ci siamo sempre un po' portati avanti col lavoro, ma giusto per trovarci indietro al tempo giusto, non per essere i primi. In ogni caso orientamento significa, proprio perché siamo in un ambito di sintesi, significa creare connessioni. Creare connessioni per riuscire a comprendere prima di tutto noi stessi, perché per orientare ci dobbiamo orientare, se no non orientiamo nulla. Quindi in questo contesto orientare alle scelte, orientare a quello che può essere il futuro che però in realtà è già presente. Tu non studi nulla facendo soltanto uno studio diciamo tradizionale, ma diciamo le parole d'ordine sono innovazione, ricerca, sviluppo, impresa e rete. E università, perché questi ragazzi andranno all'università. E l'università, all'università si fa ricerca, ma la ricerca poi deve diventare applicata, ed è questo il caso, perché i dati della ricerca possano diventare strumenti di sviluppo. E se lo posso dire strumenti di sviluppo locale. Questo diciamo in estremissima sintesi. Ci sono tutti i nostri studenti, ci sono professori dell'università, sia della Federico II che dell'università di Salerno, l'Anna Rosa Sessa come direttore di Sinergie in Rete, Vincenzo Calce, che hanno promosso questa fusion tra varie, molteplici, manco lo sapevo io, aziende del territorio. e presso le quali, dopo questa giornata di orientamento, i nostri studenti a gruppi faranno quello che una volta si chiamava alternanza scuola lavoro, poi si è chiamato PCTO, e ora si chiama fate tutto quello che è possibile perché le cose avvengano.